Nell'ambito del progetto Fly2Basilicata sono giunti nel Metapontino per visitare le aziende agricole locali ben 24 buyers internazionali provenienti da Cina, Cile, India, Colombia, Austria, Danimarca, Svezia, Peru. Abbiamo accompagnato una delegazione che ha visitato le aziende agricole dell'Opiter della Luce e del Club Kandonga che hanno partecipato anche al McFruit appena conclusosi. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere come ospiti questi buyer di varia provenienza estera che hanno visitato prima McFruit a Rimini, edizione questa del 2017 che è stata incentrata sulla fragola con la regione Basilicata protagonista e quindi che ha avuto protagonista anche il Club Kandonga. Adesso i buyer sono venuti a visitare un campo di fragole di un'azienda socia del Club Kandonga che riunisce i suoi 18 soci produttori in un consorzio unico nel suo genere perché cerca di valorizzare le produzioni locali di questa varietà di fragole, la sabrosa che poi è commercializzata con il marchio commerciale di Kandonga e Kandonga Fragola Top Quality. Questa fragola assume delle caratteristiche qualitative che esaltano al massimo il sapore e il gusto di questa varietà nel metà pontino più che in altri areali di produzione. Oggi siamo ben lieti di aver ospitato questi ospiti stranieri che hanno molto apprezzato le nostre produzioni. Produzioni che sono frutto di coltivazioni a basso impatto ambientale, volte all'ottica della sostenibilità e di un'impronta che salvaguardia sia gli operatori che i consumatori. Le aziende aderenti al Club sono certificate Global Gap, rispettano un rigido disciplinare di produzione integrata, quello della regione Basilicata, cercando di produrre con standard qualitativi molto elevati. Questi standard sono riconosciuti ed apprezzati dai consumatori non solo italiani ma anche europei ed extraeuropei. Questi bai sono rimasti entusiasti dei campi che sono nel metà pontino e hanno apprezzato molto la nostra regione Basilicata che quest'anno ha una superficie coltivata a fragola superiore a 900 ettari della prima regione in Italia produttrice di fragole. Questo ha entusiasmato molto i nostri ospiti, i quali hanno avuto modo anche di degustare e assaporare la bontà delle nostre fragole di varietà sabrosa commercializzate con il marchio Kandonga Fragole Top Quality. Una visita importante che ha permesso loro di conoscere e di vedere direttamente come le eccellenze lucane vengono prodotte e poi commercializzate. Entusiasti i buyers per questa importante esperienza. E' venuto in Italia a Cesena per il McFruit ed è molto felice di essere qui e di come a noi piace questa realtà. Vede che noi abbiamo questa passione proprio per l'agricoltura ed è felice, ha visto queste nuove varietà che abbiamo, le nuove tecnologie che utilizziamo ed è molto felice di tutto ciò, di poter essere qui. Seeds o whatever is possible because this is a very good high quality crops which I have seen. First of all thank you for calling us over here to see the most prominent fields that we have seen right now. Prima di tutto ringrazio per questa opportunità che ci è stata data di vedere questi campi di frutta che rendono la Basilicata famosa in Italia e in tutto il mondo perché comunque rappresenta un prodotto d'eccellenza che è conosciuto dappertutto. Vedere quelle tecnologie che noi utilizziamo, vedere dei prodotti come le lettarine, come un campo di lettarine, non è una cosa che può avere dappertutto in tutta Europa, ma ce l'abbiamo qui e quindi è molto felice di tutto ciò. Al McFruit che ha visto la Basilicata regione partner e la fragola prodotto di punta, inoltre è stata presentata la nuova OP metapontina Terra della Luce e ai nostri microfoni il vicepresidente Salvatore Andrisani e il tecnico Antonio Tuzio hanno spiegato le sue finalità. La cooperativa Terra della Luce nasce nel settembre del 2016 per volontà di alcuni imprenditori del metapontino composta appunto da 10 soci tra cui raggruppa 30 aziende, per volontà di alcuni imprenditori del metapontino e per far sì che si concentri l'offerta per far fronte alla domanda sempre più esigente da parte dei mercati e della grande distribuzione. Già dal dicembre 2016 viene riconosciuta a livello comunitario, a livello regionale con un primo riconoscimento del triennale e poi contestualmente anche dell'annualità 2017 e quindi attualmente già in fase di sviluppo del primo programma operativo. Quali sono i prodotti che maggiormente producete? I prodotti di punta sono sostanzialmente tre, tra cui il prodotto di punta, di picca e la fragola, proprio prodotto dell'elite del nostro areale del metapontino che racchiude il 30% delle produzioni, circa 100 ettari dell'associazione della cooperativa e altri 100 ettari di drupace di tutti i soci e l'altro 30% racchiude ortaggi e altri prodotti. Antonio Tuzio, tecnico della cooperativa, ma come è organizzata? Allora, questa organizzazione di produttori presenta una struttura piramidale, se vogliamo, dove abbiamo cinque centri di raccolta, a questi centri arrivano le produzioni, quindi di tutti i vari produttori e possiamo dire anche che la maggior parte dei prodotti vengono già confezionati in campo, quindi arrivano a questi centri di smistamento per essere appunto spediti nei vari mercati, sia italiani che europei. L'esigenza, quindi il perché nasce questa organizzazione, proprio perché c'è questa volontà di produrre, di ottenere delle produzioni soprattutto di qualità e adottando anche delle tecniche di produzione rispettose della salute dell'uomo, quindi dell'ambiente, quindi con quelli che sono i principi appunto cardini della sostenibilità. E non poteva mancare la visita di un membro del club Kandonga, che ha mostrato ai buyers uno dei campi dove viene coltivata la regina delle fragole, la Kandonga. Ai nostri microfoni il socio Vincenzo Padula ha parlato della sua azienda e della sua produzione. Abbiamo avuto una produzione ottimale, il problema più grosso è stato il freddo che ci ha bloccato la precocità e quindi abbiamo avuto una concentrazione di prodotto che va da fine marzo al 15 aprile, ma come produzione è stata una bella produzione. Quanto sono importanti queste visite, queste manifestazioni di interesse da parte di questi buyers anche internazionali? È molto importante in quanto facciamo conoscere questa nostra splendida varietà a persone che vengono da fuori Italia perché più si allarga il mercato e più possiamo avere delle rendite proficue agli agricoltori. Lei è socio del club Kandonga, come si trova? No, io mi trovo bene, sono stato uno dei primi costitutori del club Kandonga e proprio perché facciamo parte di questo club riusciamo ad avere un margine in più per quanto riguarda il nostro prodotto.